Dopo il periodo del lockdown anche i tarantini hanno una grande voglia di uscire e di partecipare ad eventi sociali e culturali. E' ripartita anche l'attività della Proloco di Taranto che ricomincia a proporre attività anche la domenica. Nunzia Lecce, Presidente Proloco Taranto, sono tante le iniziative di ripartenza. Quali saranno le prossime della Proloco? Allora le prossime già da domani la festa della musica e la festa delle Proloco davanti all'Info Point in Piazza Castello. Alle 11 ci sarà un breve momento di pizzica e di canti popolari senza fare assembramento, sempre con le mascherine, tutto in regola. E poi man mano incominciamo già le visite guidate sia negli ipogeisi sia sulla Circo Mar Piccolo. Da luglio partiranno anche i laboratori della Proloco che facciamo solitamente all'Info Point. Andiamo avanti, pubblicizziamo la nostra città, siamo grandi, possiamo riprendere il cammino. Quante sono state le richieste di ripresa da parte dei cittadini in questi giorni dopo il lockdown? C'è comunque voglia di tornare all'esterno, di uscire? Sì, sì, c'è molta voglia di uscire all'esterno ma poi stiamo ricevendo anche molte chiamate da turisti italiani, da tutte le regioni che ci chiedono come venire in Puglia, se ci sono delle limitazioni, che cosa fare, quindi già gli appuntamenti di tutto sia luglio che agosto.